Bisogna che i giovani riscoprano i valori della Blue Economy, la pesca, la tutela delle coste, la qualità del mare, il turismo marino, in una logica però di forte integrazione e cooperazione internazionale. Lo ha detto questa mattina Roberto Lagalla, assessore all'istruzione e alla formazione professionale, intervenuto a Mazzara del Vallo in occasione dell'inaugurazione di Blue Sea Land, la rassegna dedicata alla pesca sostenibile nel Mediterraneo. La sfida della modernità e della globalizzazione impone ai giovani di tutto il mondo di immaginare il proprio futuro. Io credo che oggi la scuola nel suo complesso debba essere sempre più in grado e in condizione di proporre non solo nozioni e formazione curricolare, che è doverosa ovviamente, ma anche di sollecitare la curiosità e la prospettiva intellettuale possibile di questi ragazzi conferendo loro occhi nuovi. E questo si fa attraverso l'impegno che i docenti, ma soprattutto la società, devono porre in un raccordo molto più stretto col mondo della scuola.